Oltre 15 giorni sono cadute questi due alberetti e nessuno interviene? L'ultimo tempo che c'è stato sono cadute questi due alberi, li abbiamo chiamati più volte ma non è venuto nessuno a risolvere il problema. Non sappiamo cosa fare, ho domandato a diversi operatori economici e della VR, ah no ma non sappiamo niente, non è competenza nostra, non li possiamo prendere noi. Ci ha dato un numero, abbiamo chiamato, però non si è visto nessuno. Sono due alberi che hanno dato fastidio sia al passaggio che al parcheggio delle macchine. Non possono passare né a piedi e né possono parcheggiare le macchine. Poi la gente pensa che sia l'immondizia e buttano buste, come si nota, buttano buste anche buste di immondizia. In che zona siamo? Siamo alla zona Ciccarello, sotto Ciccarello, via Calveri, siamo all'altezza di via Calveri 43. C'è una piazzetta bellissima, però se non la puliamo noi privati, o meglio dire io privato, non la pulisce nessuno. Con questo sollecito vostro, se è una cosa possibile che si può fare, ci fanno una cosa gradita perché così non si può stare.